che critica il condono edilizio a Ischia. Forza Italia invece sceglie l'astensione, ma è durissima la contestazione degli azzurri a Toninelli. Mentre si parla di morti, il ministro gioca col cellulare, accusano gli azzurri. L'abbiamo visto masticare gomma americana, l'abbiamo visto sbeffeggiarci. Il ministro Toninelli non venga mai più in quest'aula ad alzare i pugni, noi non glielo permetteremo. Vota sì al decreto insieme alla maggioranza Fratelli d'Italia.